Nasce a Tortoreto uno sportello, imprese e giovani di Conflavoro PMI, un importante punto di riferimento per i giovani appunto. Sì, in questo momento di congentura economica particolare e nella provincia, quindi nei paesi più piccoli, è importante dare un sostegno a quei giovani che vogliono avviare delle attività produttive. Quindi come Comune abbiamo pensato di convenzionarci con la Conflavoro e fornire questo strumento che servirà appunto ad avviare, ad iniziare questi giovani anche alla ricerca di alcuni fondi e risorse che possono appunto agevolarli nella creazione di nuove imprese. Come si svilupperà l'attività di questo sportello? L'attività di questo sportello si svilupperà ogni giovedì nella sede in Via Trieste appunto a Tortoreto, il numero è il 43, dove accoglieremo con una serie di professionisti tutte quelle che saranno le richieste da parte di imprenditori locali e saremo lì con appunto dei professionisti per dare dei supporti in termini di sviluppo, affiancamento alle imprese sul territorio. Domani ci sarà una sorta di open day di questo sportello? Sì, domani inizieremo. Tengo ad invitare tutte le attività imprenditoriali ad intervenire presso la sala ARIT. Saremo presenti con una serie di professionisti dove spiegheremo alcuni degli strumenti che saremo in grado di poter usufruire. Quindi si parlerà di accesso al credito, finanza agevolata, si parlerà di start-up, avremo anche un esempio di un'azienda che partita un anno fa sta ottenendo, affiancata dalla nostra confederazione, degli ottimi risultati. Si parlerà di quello che è il sistema confidi e di tante altre tematiche e argomenti. Giovedì si parte? Giovedì alle 15.30, aspettiamo già i primi imprenditori nello sportello per dare loro il nostro sostegno.